C'è Giampietro Benedetti, Presidente di D'Agnelli, una firma specializzata in ingegneria di steel mille e di steel making, e Presidente dell'Employment and Education Tax Force. La Covid-19 ha effettivamente impactato i gruppi sociali già avanti e ha exacerbato i problemi del mercato del mercato di lavoro. Inoltre, la crisi ha aiutato anche un miglioramento in innovazione in senso di committura e collaborazione across government, business and civil society. È il nostro obiettivo e l'ambizione di trasferire il mercato di lavoro per aiutare il crescente e aumentare la competenza, la motivazione, il lavoro di lavoro, e spazio di lavoro flexibili, offendo a tutti la possibilità di esprimere il talento di migliori e l'energia per innovare per il beneficio della società. Tutto ciò necessita di ammettare i miglioramenti rivoluzionari e l'energia per la trasformazione digitale e le scuole e industrie più forti. Engagare con tutti i nostri partner sociali in questa ambizione ammiglia è il miglior modo di sviluppare il futuro di tanto lavoro e l'educazione come forza per migliorare i standardi di vita delle nostre società. Grazie a tutti.